da tony sauffa oggi andiamo a recensire la dr kitan versione 10 per samsung galaxy note 5 ok bene questa è la home e launcher di nova launcher quindi non non mi soffermerò più di tanto però nel caso andiamo a dare un'occhiata alla rom la rom è veramente tra le più complete in assoluto che si possano avere e trovare per il notti 5 ha una veramente un'infinità di personalizzazioni e sono tutte personalizzazioni fatte dallo sviluppatore dr kitan che è veramente fantastico allora procediamo per ordine perché le cose da vedere sono abbastanza e io andrei più che altro a farvi vedere una carrellata delle impostazioni però diciamo che mi soffermerei più sulle caratteristiche qui abbiamo people age app age che potete impostare io non lo faccio perché non lo uso poi tra le altre particolarità diciamo che a livello all'interno delle impostazioni non troviamo nulla però diciamo che ci sono poi fuori questo è giusto per farvi vedere un attimino il software sto testando la rom con il kernel sky high che veramente di una personalizzazione incredibile proprio cioè veramente c'ha l'impossibile quel kernel però ritorniamo sulla rom scusatemi 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 ritorniamo sulla rom andiamo in pratica io che cosa ho fatto ho messo tutte le app di kitan di kitan stramorten in diciamo in questa casellina in modo tale da non perderci nulla allora abbiamo la possibilità di settare i dpi in modo molto 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 veloce vediamo mettiamolo a 260 vediamo solo imposta dovrebbe impostarlo ok vedete ha ridotto ulteriormente i dpi devo dire che a 260 forse pure pure fico no che dite figo a 260 sì dai lasciamolo a 260 così almeno lo schermo sembra ancora più grande 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 abbiamo visto dpi changer è veramente comodissimo poi ritorniamo a vedere la dottor kitan col record in questo caso qui possiamo scegliere se avviare la registrazione della chiamata manualmente quando effettuiamo una chiamata oppure in automatico quando la riceviamo e in automatico quando la effettuiamo effettuiamo quindi possibilità di personalizzarla come volete samsung csc features in questo caso andiamo a fare il backup del possiamo fare il backup e il restore delle nostre delle nostre del nostro csc e poi andare a modificarlo qui ad esempio nella camera c'è la possibilità di abilitare la fotocamera durante una chiamata i messaggi pop up in camera i suoni della fotocamera qui i submenu del i simboli scusatemi della come cazzo si chiama vedi i simboli ci sono ok simboli nella cazzatina qui ritorniamo no devo ritornare qui no devo ritornare qui ok quindi diciamo i submenu key nella tastiera poi abilitare il tasto di uscita nel browser la modalità desktop sempre del browser quindi tutta la personalizzazione della della di internet o porca troia esce sempre ok poi la possibilità di andare a modificare alcuni parametri dei contatti qui ve ne andate a vedere diciamo con calma nonché alcuni parametri dei messaggi ok quindi potete ulteriormente arricchire le impostazioni del vostro terminale poi ci sono le varie ed eventuali cosiddette sempre varie ed eventuali che vi permettono ad esempio di disabilitare la rotazione della 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 home abilitare l'estrazione l'esportazione del calendario su sd e tante altre abilitare o meno l'attesa di 60 di 60 secondi alla chiusura della 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 chiamata insomma tutte cazzatine che potete impersonalizzare poi c'è il virtual key qui è la possibilità di impostare dei tasti virtuali a display vi consiglio di leggere come diciamo abilitarli osarli direttamente sul trade di dottor chitan perché non è molto semplice questi sono tasti virtuali ma cambiano anche c'è la possibilità anche di personalizzare i tasti fisici però principalmente tasti virtuali che si aggiungono a quelli che già abbiamo poi qui abbiamo l'opzione cina del toolbox edit praticamente scusatemi vedete qui la possibilità di mettere il cazzatellino qua insomma ma non lo vediamo se ok non so come cazzo si disabilita va bene io queste cose non le uso mai abbiamo impostato il multi windows e niente potete mettere il toolbox side key poi qui è che l'app adesso non la non la uso perché praticamente kill la proprio in modo drastico tutte le applicazioni in background con un unico tasto quindi diciamo che lo potete mettere nella home e lo usate tranquillamente in questo caso vi faccio anche vedere ok google questo è sempre di chitan in pratica tappando qui si apre direttamente ok google senza doverlo pronuncia pronunciare poi abbiamo 3 minute battery settings qui per mettere personalizzare l'icona della batteria che non mi piacciono quelle di base e poi passiamo alla nuova diciamo versione della dr chitan utilities in pratica è una raccolta in un'unica in un'unica app per esempio qui potrebbe sicuramente in futuro accorpare questa c'è inutile avere quest'app separata quando può tranquillamente accorparla qui comunque andiamo a vederla qui possiamo praticamente impostare le is up notification il fast charging più o meno l'auto gps qui praticamente se cliccate qui si in sottofondo vi dice che cosa fa no dis will auto switch on gps when you open some common application praticamente accende automaticamente il gps quando un'applicazione lo richiede e lo potete impostare così anche l'auto wifi auto bluetooth smart network che cosa fa dis will auto off data praticamente spegne il lo schella i dati la connessione dati qua 30 secondi dopo lo spegnimento dello schermo media scanner anche qui vi spiego un attimino tutto come che cazzo fa che cazzo non fa pop up blocker login security ad free auto 2g auto data diciamo che qui ve l'ho andata a vedere con calma ma veramente queste sono belle impostazioni task qui le fs backup è il flash della recovery diciamo che un tool per fare dei backup ma soprattutto ad esempio qui auto memory lo vediamo insieme praticamente qui vi dice come settare la memoria quando pulirla quanto lasciarne lasciarne libera e viceversa del blotting tool qui vi diciamo in un certo senso aiuta a disabilitare tutti a deblottare tutti i servizi o abilitarli completamente diciamo che questa è un'opzione che devo ancora vedere però c'è il read this che non mi fa connettere al read this se impappinata ovviamente quando abilitate le impostazioni adesso lo vedremo pure più avanti diciamo che dovete dovete dare il tempo al allo smartphone di ripigliarsi questo è il il read this praticamente gear vr utilities insomma sono un po di altri task che potete personalizzare ok andiamo un attimino adesso sta vedi vedete perché lo poi lo fa con calma cioè nel senso che siccome deve andare ad operare su alcuni deve intervenire su alcuni parametri lo fa con calma vedete 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 all service enabled perché comunque lo l'ho fatto comunque andiamo a vedere che adesso dovrebbe fare questo è per il vr se è come volete impostarlo andiamo in rom qui ci sono altre possibilità di personalizzare il metier stone keeping unlock effects questo dovrebbe essere il tipo di disblocco vedete l'ha modificato vediamo il cycle unlock effects è leggermente diverso battery mode qui vi dice come volete la batteria come la volete personalizzare clock mode anche qui come volete personalizzarlo network type 3g only lte o auto lte 3g 2g esperimentale quindi quick panel toggle quello che vi dicevo normalmente altre app ne hanno altre rom hanno 10 toggle qui ne avete 30 e qui potete impostarlo adesso dovrei abilitarlo però non lo faccio qui potete scegliere apply però bisogna riavviare il dispositivo quindi vi consiglio di fare tutte le modifiche quando lo ritenete opportuno e poi riavviare un'unica volta il terminale launcher lo scroll dell'home del launcher se volete un attimino abilitarlo disabilitarlo aumentare diciamo lo scroll l'age feature se le volete oppure no bisogna tenerle premute poi andiamo su rom control rom control qui c'è ci sono altri parametri e ce ne sono parecchi come vedete è molto molto personalizzabile questa rom dr kidan app manager quindi qui se volete togliere qualcosina potete diciamo disinstallarlo ok vedete l'ho disabilitato ovviamente devo riavviare poi temporarian route se volete togliere il route temporaneamente rimappare le i tasti vedete qui potete personalizzare tutto come cacchio volete poi nfc hack qui hacheggia l'nfc non so che cazzo hacheggia però lo hacheggia recent panel qui praticamente potete aggiungere un quick launch che cosa fa questo quick launch vedete nella nella foto potete aggiungere adesso devo devo riavviare per forza necessariamente ma non posso fare altrimenti perdo la registrazione praticamente qui in basso adesso qui in basso appaiono delle delle schermatine dei collegamenti quindi che andate a personalizzare quindi la mail il telefono è simpatica come simpatica come cosina andiamo a vedere l'altro enable lte option quindi l'abbiamo abilitati enable all app for multi windows per abilitare tutte le app in multi windows l'abbiamo abilitato vedete ci mette sempre qualcosina bisogna sempre riavviare secret code dialer qui ci sono tutti i codici segreti di samsung è comodo perché senza aprire il dialer lo possiamo fare optimization tweaks anche qui si apre un ulteriore schermata che vi porta dagli altri ulteriori personalizzazioni vedete per aumentare questi partono in automatico nel momento in cui si riavvia il telefono e qui ragazzi c'è io ho messo tutto on 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 e via anche qui il profilo della ram bilanciato multitasking o gaming ovviamente non noto sostanziali miglioramenti perché insomma ragazzi su questi terminali dai sono tutti uguali nel senso che comunque funzionano tutti benissimo questi sono anche altri boot prop tweaks per la batteria l'avvio più veloce la uai più più scappante e quant'altro quindi abbiamo visto la rom rom control optimization tweaks sound mode in questo caso noi possiamo aumentare il volume l'audio del telefono in questo caso abbiamo cliccato mild boost mode attenzione non è milf boost mode è mild boost mode e qui possiamo anche settarlo a nostro piacimento ok long press durating reset non so che cazzo è qua long press durating reset non lo so che cazzo è un fix per netflix fix per netflix è full screen color ID qui in questo caso possiamo abilitarlo per di abilità comunque starà un po in pappinaus ci vuole un po di tempo è perché comunque le modifiche sono abbastanza corpose ok qua vabbè poi dopo uscirà come cazzo è rom control siamo arrivati misc modes and color qui potete dare un po di colore come vedete sta ancora elaborando sotto qualche modifica che ho fatto nella parte precedente dai cazzo dai cazzo dai cazzo e qui poi c'è la c'è la torcia praticamente con il volume con lo schermo spento premendo e tenendo premuto il volume in alto si accende un automatico la torcia molto comoda ragazzi e parti shout no se si è impappinato cioè nel senso non che si è impappinato perché ripeto queste modifiche sballottano un po il telefono quindi adesso dovrei riavviare per avere tutto sistemato mi sistema un po lei con cine qui perché si sono un po disallineate da quando ho spostato il totos non lascio queste cocco così un po decentrate che cosa posso farvi vedere più niente perché in realtà già abbiamo visto abbastanza ed è molto 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 bella questa rom mi piace veramente tanto lo sviluppatore poi è molto affidabile lo conosco dal not 4 non è che lo conosco dalla vita lo conosco dal not 4 però fa roba sempre molto 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 innovativa inoltre è uno molto attento a a fare cose nuove cose diverse io credo di avervi detto tutto vi devo fare un vi devo dare un giudizio della rom che vi che giudizio video della rom ragazzi che giudizio video allora andiamo al giudizio non è sicuramente una rom mara maionchi c'è nel senso che è una rom assolutamente da provare non è la classica rom lolli pippotto in attesa del marcio un mallotto è una rom sicuramente fonsi nel senso che è molto giusta ma secondo me questa rimane sempre una rom bomba questa è una rom bomba ragazzi e vi saluto mi raccomando seguitemi e iscrivetevi sul canale youtube mettete un pollice su fate i bravi fate i buoni io adesso vado a fare la popò a presto